Il fatto che Grillo vinca è in qualche modo la sconfitta della politica, quindi non è che sono felice, sono contento che ci sia un cortocircuito e che Grillo rappresenta, ma già a Parma il sindaco ha preso le distanze da Grillo. Si sta già complicando le cose. Si sta complicando un po' la vicenda, però come hanno detto tutti fa riflettere questo voto di protesta, perché è protesta. Voi, cioè tu e Grillo, siete partiti... Ho messo a gente. Ah, no, la sapevo. Però siete partiti oltretutto, voglio dire, siete esplositi grosso modo nello stesso periodo. Lui un po' prima, poco prima. Poco prima, ma insomma, siamo lì negli anni Ottanta. Ecco, voglio dire, ma che effetto ti fa appunto vedere adesso, come dire, quello che poteva essere un tuo competitor sul piano professionale? Non è che è oggi che lancia questi strali. I suoi spettacoli a pagamento da anni sono spettacoli motivati da una passione, se non proprio politica, di Guastafeste o Masia Grillo. Quindi oggi è diventato industria, cerca di costruire consensi. Industria? Beh, una fabbrica di consensi, quindi un'industria. Prima invece era pagavi il biglietto, andavi a vedere il suo spettacolo, ti divertivi, pensavi, uscivi e basta. Ma per me non è una sorpresa, assolutamente. Ma Chiamaretti, ma è un'evoluzione naturale per il comico diventare poi tribunale? Cioè, penso anche alla Guzzanti, per esempio, che negli ultimi anni abbiamo ritrovato sempre più anche predicatoria, sempre più... È una possibilità di carriera, un comico non può invecchiare, deve diventare qualcos'altro. No, ma la risposta potrebbe anche essere banale. Chi è? Pronto? Pronto, no, ma è un'intrusione. Ah, ecco, c'è un'altra trasmissione. La Rai sarà grande a Saxarubra, però qui ci fanno sette programmi nello stesso momento. Cioè, questa è la cosa... È sulla spiegazione! Te lo spiego bene questa parola. Si vede che... È esperto per lui. Sostenevo che, come in più di un'occasione, non voglio essere banale, ma molti politici sono diventati dei comici e non sempre solo lui, perché ce ne sono stati tanti altri prima di lui, è possibile che un comico diventi un politico. Però non è il caso di tutti.